Vai Lore, registra! Zippo! Zippo, ti erano di merda! Zitto, ti errone! Ma aspetti che c'è una cosa d'approccio! Ovviamente ragazzi non ce l'abbiamo con i ferroni ma per far arrabbiare le pazzone dobbiamo instigarle un po'. Serata perfetta! Poi ragazzi, guarda, mi ricordo che sono forti, attenti eh! Sì? Sì! Io vi l'ho fatto tripla! Bravo! Sti bastardi! Confermate però, raga! Eh, guarda, Raffica, che culo di merda che ha avuto! Che vergogne! Ah, comincia un razzi! Dopo trezioni di partito! Inizia quei cazzi! Ragazzi, Raffica non si vede sparare, attenzione! Attenzione perché Raffica non si vede sparare! Eccolo là! Eccolo qui! Una bella burbina! Eccolo lì! Eccolo lì! E' due! E' due! E' due! E' sono due! E' doppia! Ah, bravissimo! Certamente doppia! E' mezzo tutti! 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 E' due! E' due! Eccolo lì! Eccolo lì! Eccolo lì! Zitta, signorina! Mamma ragazzi, che dispata per loro! Ragazzi, ma guardate Lupe quanto camper! Lupe, Lupe. L'incorregibile Napo, Napo! L'incazzabile Lupe. L'incorregibile Lupe, Lupe. inutile che bel campenino abbiamo ma che bel campenino ma ma lupen ancora lupen che schifo ma madonna ragazzi in cui lui si sta facendo bravo allora c'è anche Raspita 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 sono appena accassiato dal lupen ma sono appena arenato incredibile sono appena arenato ho deciso anche i meloli ho piaciuto il quadrafero che ne è appena accassiato ma ma mia troppi dal volo troppi dal volo bellissimo oh 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 ecco gente o clienti eccolo qua grafica grafica di sperma nel video per lui aiuto no aspetti cos'hanno con te il 40 ce l'hanno con te ce l'hanno con te ma te ma puttana no io ce l'hanno con tutti diverso con tutti chiunque si chiama abbo dovrà essere cacchiato questo è il nostro credo ragazzi c'è l'approvvigionamenti sono buoni questi eh ce la fai? no no non ce l'ho ancora è nell'angolo penetratile e se lascia no pronti per la consegna si ragazzi stai da controllo eh attrava anche la indietro vabbè che fa non è che ti chiede in approvvigionamenti per favore di un olore si è un bel quando sto campionando la grazia se stessi con il bravo no, non un colpo non puoi dire la mia non si può rivedere no no aiuto oh mamma mia come avete fatto il prodotto da porto so come può essere ancora vivo ragazzi anche se mi sa che sono buoni ma guarda che connessione aiuto ma a me non mi piace fare guardia sono tutti violetti sono gli approvvigionamenti piani lupen vieni 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 che succede ragazzi vi abbiamo spaventato non c'è più polvere non c'è più polvere vi abbiamo scopperato i swiffer ma cosa succede? ma che cosa succede? vedi di stare pitti non ci arrabbiamo eh cosa ridete che cosa ridete cazzo cazzo no non c'era piano no 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 cominciamo non c'è scuse no non c'è scuse non siamo scurridi ti ha detto che ha detto non l'ho sentito ne ha detto le mamme sempre le solite cose le mamme le mamme le mamme perdono le mamme ma tanto sono dei coniglietti che ora scappano napoli certo certo puttani 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 e i loro figli conigli 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 ovviamente ribadisco il discorso perché non ce l'abbiamo assolutamente quando ci sono quelli del nord vi diciamo polentoni ma tu ce l'hai le mani ma siamo toscani siamo toscani ma non ce l'hai le mani e solo per stuzzicare che poi e hai il pollice opponibile vogliamo farli incazzare e ti manca il pollice opponibile e l'hai e gli diciamo non scappano gli conigli se non scappano ancora? e lì giù e l'hai le mani e ci venga l'altra e ci venga l'altra e i loro figli con i conigli con i conigli mamma come loro anche di così eh non è discriminazione territoriale no, noi noi lo diamo noi lo diamo tutti noi lo diamo tutti noi cazziamo tutti non ce l'ho fatta cazzarlo voi non mi volendo nemmeno ma facciamo nienti questi mamma come sono scarti questi ragazzi ma insomma sono scarti sono scarti sono scarti non ti cazzo e io non lo sono cazzo io non lo sono cazzo io non lo sono cazzo olla olla compare una bolla vedo un abbo nella bolla vedo un abbo nella bolla vedo un abbo nella bolla non ci credo questo ha cagato l'arma avevo fatto una doppia una doppia pazzesca ha cagato la bomba sto figlio oltre non smetterebbe seppino con un amore di mezzo livello e la parola io ho avuto un uomo 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 non c'è tipo dov'è la pipa notiforché che marita da ragazzo ma io ho un cazzo di giubbotto però io ho un cazzo di giubbotto madonna ragazzi che curio di sto facendo ma donna diciamo a fendolano e le navi guarda qui si muore si muore si muore con uno 12 311 512 vabbè ma mazzano con un colpo ma guarda te ma ragazzi ma ma che connessione vi dite che connessione grafica ho entrato con uno aiuto che connessione grafica è raspo fil attacco aereo alleato in arrivo guarda che il progetto di me ah 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 non è presente per nessun motivo no il video e ora momento ragazzi ma grafica mi spiegate che cuore io sto morendo a ripetizione ineribili 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 no ma ma incredibile e ti lo tiro giù per la farina aiuto ne fanno un pochino nervine stanno cagando bombita sono le cagottino mela 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 torna andrillo torno andrillo ne arriva un'ora è ormai nulla già deceduto da un pezzo non vuol decedere no vuole devancare io meno male sto registrando cioè sono 18 18 ma dovrei essere che cazzo è guardate che schifo mi casca coglioni in questo gioco però è veramente che mi si ammossiano le palle divento sterile ma eccolo lì uno ridono 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 cosa ridete che cosa ridete cazzo no c'è non è visto non è una cosa guarda vuole accartellare da casa sua da quanto comando ha da comando che resistibile ha presito comando vecchie riminescenze di mv2 signori signori mentre moriva ora mi sentiamo io se chi c'hai? sono grassissimo sono grassissimo sono grassissimo vieni mela vieni mela che ci cazzo tutti aiuto 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 qualcuno mi ha attaccato una scena o pop gadget giuggernaut o pop gadget di cazzo tutti ma ma ragazzi quanto li sto cacciando non avete un'idea ma mi è rinato dentro il sedere questo ragazzi incredibile utentissimo non fermo nei juggernaut io non ci credo accidenta a chi c'è scudo blindato oh mamma oh mamma arrivederci oh no ragazzi sei dritta burdine 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 silenzio eccola eccola guarda ma che bel down ma che bel down oh mamma oh però gli devo fare gli stessi conteggi dopo tutti c'è 32 poi vabbè c'è lupen che è una poche fuori dal coro il 050 di ratio signori e signori lupen togli il microfono dalla vergogna togli il microfono dalla vergogna l'avrei fatto anch'io signori signori lupen con tutti i suoi prestigi che cosa ci ha fatto ci si è fatto le seguine pipipetta ehm smaneggia guarda giocano così guarda giocando 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 guarda sto giocando con gestica al contrario poi spero che lupen gliel'abbiano gliel'abbiano fatti con i trucchi perchè sennò veramente perso mamma mia buttare via tempo tempo vero dov'è lupen? bravi aggiungetemi entrerete nell'esercito di burbe la mia rate è 6 ma che sei lupen? lupen dai 1,10 di rate pensavo peggio e raffica il super connessionato culone? culone lupen giocando lupen 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 bravo no si scherza dai è un portito sempre tutto sempre tutto sotto sempre tutto sotto non c'è la mamma di smidollati basta bastardi eh io me lo vedo lupen così lupen cazziato perchè 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 non ti ho giocato c'è anche d'ombra non l'hanno per niente accusata l'hanno ammortizzata no eh non si sa dagli un po' di fredd no ma ma in realtà sono lì che fanno in realtà questo gioco non mi interessa io sono una persona di di elevato col no non ci credo lupen guardate che culo il primo a morire mi becca da dietro questo da muore anche mi becca da dietro non sapeva neanche i fossili ma guardate che schifo ma che pallino mi ha attaccato la semplice a caso ma guarda raffica poi dice che non ha culo non ha culo e mi ha attaccato la semplice a caso no no non ho culo io è stato nell'ombrone non ho culo io tieni giocaci bene un bel dillo gigante ma lona si vede mi ha parato il culo ma poi c'era c'era il picco di me no lupen io sono morto tre volte due da lupen questo ha avuto commando va bene si comunque questa è cosa la cartellare sombra aiuto piove piove ma guardate che cazzo di schifo sono tre e sei rivido rivido se tu lo potete vedere oddio ecco io guardo in camera tutte le volte che guardi in camera mi cacciano tutte le volte in camera eh non guardare narciso eh guarda se registra no mongoloide ferrifica guarda se registra se registra la vecchia sorda che cazzo che cazzo è solo una vecchia sorda che cazzo che cazzo io sono io sono io sono cazzo ora via la sfiga che culo no che cazzo proprio lupenno perché cazzo è proprio lupenno raga è proprio scazzo lupenno è proprio un down si perchè ha fatto 5 uccisione a culo e chiuso in negativo che bello ah ragazzi ve posso dire una cosa? non scappate con gli uncelli non scappate ma posso dire una cosa? no non ce la dire dai no no io voglio sapere cosa hanno maturato in queste partite prego prego chi è che parla? la grafica o il serpico? grafica grafica da dove? ma la bastadina cosa? e dove ci fanno? dai dici ti vado a fare vatti d'arte fermo ah volete davvero allora vai vatti su da sua la parola siete sicuri? siete sicuri? io ho paura di non dormire stanotte però becchati sti spicci di grafica becchati sti spicci di grafica becchati sti spicci di grafica becchi sti spicci becchi non becchi giamaica 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 per cazzo eh ora mi do un bocca poi ti pisci un culo che bellezza mi ha sognato stanotte mi ha sognato mi ha sognato mi ha sognato ci fanno ci tra tro ci fanno spark